benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube li svavo e io sono mister nino tata trattino basso tnt andiamo a vedere un atomizzatore prodotto da coiland si chiamerà modo molto semplice coiland mtl rta è il primo atomizzatore di questo brand cinese l'ho testato l'ho provato amici miei funziona veramente molto bene sigla e recensione coiland mtl rta in un packaging molto semplice molto minimal viene presentato dal brand coiland il primo atomizzatore mtl rta da loro prodotto come potete vedere se molto semplice riporta il brand la scritta coiland e dietro il contenuto della confezione i loro social facebook instagram twitter il loro sito le certificazioni lo smaltimento ed il codice a barre andando ad aprire la confezione troveremo l'alloggio per l'atomizzatore con la configurazione standard da 22 mm 2 ml di capienza l'estensione del camino il secondo vetrino che porterà l'atomizzatore da 2 ml a 4 ml inoltre nella confezione troviamo un piccolo libricino di istruzioni con tutte le specifiche del caso una chiavina con la punta una a stella e l'altra a taglio un sacchettino di spare part contenente il secondo pin sotto coil che porterà il diametro da un e mezzo come quello installato all'interno del deck direttamente stringendolo e portandolo ad uno l'atomizzatore coiland si presenta in questo modo costruito completamente in acciaio ss 3 16 l atomizzatore da 22 mm nella parte sottostante possiamo ritrovare il marchio ce lo smaltimento il numero di serie il mio è il 2 e 25 l'atomizzatore si presenta in questo modo un top refill grazie alla semplicità del prodotto basterà andare a svitare questa parte si arriverà facilmente all'alloggio grazie a queste tre asole poste al suo interno l'atomizzatore non presenta sbavature le lavorazioni sono fatte veramente molto bene adesso io vado a richiudere rimango nella parte sopra drip tip con attacco 5 10 due o ring faranno presa direttamente sulla parte dell'atomizzatore cosa interessante invece è il controllo del liquido quindi una doppia asola aperta una da questa parte una da quest'altra potrà essere regolata tramite questa doppia ghiera da una parte e dall'altra tramite una rotazione in questo momento è chiuso e lo andiamo ad aprire il sistema airflow invece è regolato da questo da questo anello in acciaio dove si avrà la possibilità o di scegliere questa grande asola in modo da ricoprire più fuori oppure andare a regolare il nostro sistema di airflow direttamente su un unico foro e ve lo faccio vedere quindi questa è l'asola che può andare a regolare più fuori contemporaneamente oppure per avere effettivamente un tiro più stretto andiamo a scegliere la nostra regolazione tramite quest'unico foro 5 sono i fori presenti da questo atomizzatore ed andranno da un minimo di 0,7 0,9 1.1 1.2 1.5 bene sono misure tendenzialmente ideali ed adatte per un tiro stretto per un tiro da guancia infatti l'atomizzatore coiland nasce esclusivamente per l'utilizzo per tiro di guancia allora andiamo ad aprire ve lo faccio vedere sezionato quindi in questo modo si accede alla parte del deck con la campana la cosa interessante quindi vi faccio vedere come si presenta la campana di forma a cupola e senza spigoli vi faccio vedere quindi le lavorazioni interne come sono state eseguite fatte veramente molto bene qui da una campana larga si tende leggermente ad avere una strozzatura un po tipo imbuto quindi non avremo una campana piatta ma una leggera stondatura questo mi farà capire l'utilizzo di determinati tabacchi che saranno ideali su questo atomizzatore tech che mi sembra davvero molto interessante un misto tra i soliti deck ma avendo preso secondo me il meglio di tanti atomizzatori alla fine hanno ricreato un deck molto semplice nella rigenerazione due vaschette ampiamente larghe dove andranno ad ospitare tanto e dico ragazzi abbondante abbondante cotone quindi non vi preoccupate e qui abbiamo infine il foro del pin sotto coil da un e mezzo sarà facilmente sostituibile tramite il secondo pin dato in dotazione dove il foro sarà più stretto ed avrà l'entrata del nostro air flow da un millimetro quindi a seconda del tipo di liquido che andate ad utilizzare potete restringere quindi il foro d'entrata da air flow e di conseguenza scegliere il tipo di filo più adeguato nel senso se andate ad utilizzare una mixura sarà più opportuno utilizzare il pin con l'entrata più stretta ed i fori piccoli questo perché questa campana non tenderà maggiormente ad andare ad essiccare praticamente il nostro aroma ma lo andrà praticamente a bilanciare o tenderà a far uscire delle note aromatiche più dolci qualora volete portare il vostro atomizzatore dalla capienza di 2 ml a 4 ml sarà opportuno quindi inserire l'estensione del camino data in dotazione e si avrà la possibilità di avere una campana più alta ed inserendo quindi il secondo vetrino trovato quindi nel kit abbiamo la possibilità di portare da 2 ml a 4 ml il nostro atomizzatore le dimensioni dell'atomizzatore sono 55 mm fino all'altezza del drip tip con la configurazione da 2 ml 63 mm con la configurazione da 4 ml quindi prendiamo una basetta vi faccio vedere meglio un inquadratura ne andiamo ad allentare le viti la rigenerazione è veramente molto semplice una volta effettuata la vostra rigenerazione in questo caso ho utilizzato un cantala 1 una volta sistemata e centrata andata a serrare i grani in modo che la resistenza rimanga pressoché centrale ne andiamo a tagliare le eccedenze e vi dico una cosa con l'utilizzo del tool la resistenza rimane abbastanza alta sarà opportuno quindi per avere una migliore resa aromatica dare una piccola spinta con il dito affinché raggiunga pressoché questa posizione poi una volta centrata andiamo a fare la lettura della resistenza 0 75 ed andiamo a fare qualche micro attivazione per vedere effettivamente come si comporta la mia resistenza quindi grattate la resistenza giocateci affinché non trovate la giusta attivazione una volta freddata la resistenza possiamo andare ad inserire il nostro cotone ne tagliamo le eccedenze e lo lavoriamo un pochettino arrivati a questo punto lo andiamo ad inserire in quelle grandi vaschette che l'atomizzatore coiland ci offre fondamentalmente questa è la condizione definitiva scegliete il vostro liquido io in questo caso utilizzerò un client di asad ovvero un crystal aids nocciola e tabacco liquido di componente organica benissimo la resistenza si comporta bene arrivata a chiudere il tutto inserendo quindi la campana senza estensione vado a chiudere il controllo del liquido tramite questa rotazione e vado a effettuare il refill direttamente dall'alto quindi semplicissimo si svita la parte superiore ed andiamo ad inserire i nostri 2 ml dentro l'atomizzatore refill molto semplice molto veloce ed andiamo a chiudere il tutto prendete la vostra box sul quale volete andare a montare l'atomizzatore vedete io ho voluto scegliere questa combo perché la mia box è abbastanza piccolina quindi arrivati a questo punto sarà opportuno andare ad aprire il flusso del liquido andiamo a regolare quindi il nostro sistema di airflow ed andiamo a regolare i nostri giusti vattaggi 17 watt per una resistenza finale da 0,8 ragazzi miei ci può stare andiamo a provare questo atomizzatore coil and mtl rta la prima cosa che risalta è praticamente il tiro un tiro lineare un tiro fluido un tiro veramente pulito l'atomizzatore con questo tipo di campana è prettamente indicato per tabacchi con delle note aromatiche con delle note speciali con il foro sotto coil da 1,5 è possibile quindi utilizzare lo stesso atomizzatore tendenzialmente con le misture a mio avviso nelle mie prove ho utilizzato il foro sotto coil da un millimetro in modo che tendeva leggermente a seccare di più a quel punto la mixtura sembrava più gradevole dovete fare riferimento al tipo di resistenza che andate a fare se utilizzate un tabacco chiaro un tabacco aromatizzato per me è stato opportuno utilizzare una coil una single coil quindi una singola wire con i 80 28 gauge 6 spire punta da 2,5 e la resa aromatica era pressoché gradevole pulita e rilasciava quindi quelle note dolci quelle sfumature che andavo a cercare in quel determinato tipo di liquido ideale per tabacchi aromatizzati tabacchi organici o tabacchi sintetici lavora molto bene il sotto la il pin sotto coil con un foro da un millimetro è prettamente più indicato se volete andare ad utilizzare dei tabacchi pressoché scuri delle misture quindi eviterei di andare ad utilizzare questo atomizzatore solo per un Kentucky un Latagia si presta invece bene per un Black Cavendish un Virginia e tutti quei tabacchi che tendenzialmente sono buoni con quelle note che rilasciano grazie al loro processo di estrazione io in questi miei test amici miei ho provato il Virginia Plus di angolo della guancia ho provato l'English Mixture di Azad ho provato un sintetico di Iron Vapor ed infine come adesso sto utilizzando il Crystal Age sempre di Azad allora la mia prima rigenerazione con questo tipo di liquido era stata con i 80 28 cauge 6 spire punta da due e mezzo ed usciva prettamente la nota dolce della nocciola sottofondo di vaniglia e sentivo la presenza di questo Virginia Toscano molto molto leggero ma non sentivo la il pizzico di Latagia è chiaro che questo in base alla descrizione del produttore poi in questa invece in recensione ho voluto riutilizzare lo stesso liquido ma ho utilizzato un filo cantal in questo caso un 27 gauge ed ho fatto sempre le 6 spire punta da due e mezzo il filo cantal tende a rilasciare qualche nota differente che io sentivo quindi con il ni80 non ho voluto inserire quindi il sottocoil da uno perché il liquido è tendenzialmente aromatico tendenzialmente dolce e quindi vado ad inserire vado alla ricerca del singolo foro diciamo da 1,3 la prima cosa che risalta dell'atomizzatore amici miei è questo bel tiro pulito e lineare io sinceramente non me l'aspettavo essendo il primo atomizzatore di questo brand cinese oltretutto ha veramente un ottimo prezzo perché si colloca con gli atomizzatori di fascia economica 1 l'acciaio ss 316 l e le sue lavorazioni amici miei sono veramente ottimi a partire dalle filettature fino a tutta la costruzione l'atomizzatore in sé per sé ha veramente un gran potenziale il deck è molto semplice oltretutto è possibile accederci senza dover levare tutto il liquido quindi dal tank e anche questo è un fatto molto positivo mi piace il fatto che dentro al deck c'è la possibilità quindi di avere più capienza in ml senza dover acquistare kit a parte la scelta di utilizzare questi atomizzatori per tabacchi è valida essendo quindi strutturato per avere effettivamente un tiro stretto io che generalmente vaporizzo anche i liquidi 50 50 tendenzialmente cremosi ho preferito utilizzare altri atomizzatori se vi piace quindi vaporizzare il tabacco ma prettamente tabacchi anche tabacchi organici che vi rilasciano quindi quelle sfumature che quel determinato liquido vi dà l'atomizzatore coiland potrebbe fare al caso vostro perché perché una volta che vaporizza come vi ho fatto vedere quella campana non è una campana piatta non è una campana tonda ma vogliamola definire come una campana conica quindi la vaporizzazione quando si incanala dentro la campana quella leggera strozzatura amici miei tende a dare un vapore bello grasso e corposo ecco perché vi dico un singolo tabacco scuro eviterei su questo atomizzatore ma con tutti gli altri tipi di liquidi questo atomizzatore ragazzi miei funziona veramente bene dico questo perché perché ha un bel tiro su questo non lo nego non lo metto in dubbio la resa è pressoché soddisfacente certo non vi farà gridare al miracolo però la resa è veramente veramente buona è un prodotto fatto veramente bene non ha perdite di liquido non gorgoglia ma se volete utilizzare l'ultimo consiglio che vi do è questo se volete utilizzare delle mixture provate con una punta più piccola ovvero utilizzate una punta da due o un'intermedia che vada da due a due e mezzo utilizzate quindi il pin sotto coil da diametro interno un millimetro e l'atomizzatore riuscirà a darvi quella nota tendenzialmente che si perdeva con la configurazione per liquidi tendenzialmente dolci quindi ha uno scopo prettamente per il tiro di guancia e lo fa molto ma molto bene vi potete scegliere di vaporizzare il vostro tipo di liquido ma dovete fare attenzione uno in base al tipo di rigenerazione che fate e in base alla vostra esigenza quindi di percezione di gusto andate a sostituire quindi il pin sotto coil perché vi posso assicurare che anche se di poco aiuta quindi migliora la resa aromatica di determinati liquidi per il resto mi piace è fatto bene e chiedo voi atomizzatore coil and con tutte queste semplici caratteristiche quindi un deck veramente molto semplice da rigenerare delle vaschette per il cotone ampiamente larghe che riescono ad ospitare bene il cotone non ho mai avuto difficoltà quindi a dover chiudere praticamente il flusso del liquido perché o mi entrava troppo liquido perché perdeva del liquido perché gorgogliava non ho mai avuto problemi di questo tipo a seconda se ho fatto una coil da due o una coil massimo da due e mezzo ok il deck come detto in precedenza è similare a determinati atomizzatori che sono stati immessi sul mercato ma secondo me il brand coil and ha preso il meglio di ognuno ed ha fatto il suo ibrido ha fatto il suo atomizzatore che fondamentalmente funziona veramente molto bene detto questo amici miei ultima sbavata allora con questa rigenerazione ovvero con questo cantala 1 io sento la parte di virginia toscano molto leggera perché viene coperta dalla parte di hazelnut ovvero di nocciola percepisco la nota vanigliata è un peccato che il liquido non rilascia quel pizzico di lataglia che il produttore ha messo in descrizione ora amici miei non è l'atomizzatore perché questi 15 20 ml l'ho provato anche su altri atomizzatori e chiaro anche per poter dare una considerazione finale e personale su questo atomizzatore produevo aver provato lo stesso liquido anche su altri atomizzatori e vi posso dire che il lataglia è veramente impercettibile quindi la colpa volendola definire così la attribuiamo direttamente al liquido ma non all'atomizzatore detto questo amici miei il video è finito e lasciate un like se il video vi è piaciuto se vi è interessato se l'atomizzatore vi ha colpito c'è qualcosa che vi piace benissimo lasciate un commento alla fine del video su youtube vedetevi cosa ne pensate di questo atomizzatore coiland mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca o li svapo lasciate un like sulla mia pagina facebook io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a rimanere sul canale della mia prossima recensione attivate la campanellina per le notifiche io vi saluto e vi ringrazio vi invito pertanto a rimanere sul canale per la mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino